Vicoli, 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 vicoli stupendi, vicoli che danno sul mare, vicoli che danno sul mare. Interno casa stupendo, guarda che roba. Lumari, Lumari di Lumari di Gallipoli. Adesso andiamo, entriamo in un locale che ci offrono un caffè. Buongiorno, 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 caffè offerto, grazie. Ma guarda che carino sto costo, guarda che roba. Grazie.